la ricostruzione del ponte Moratti nella persona di Pucci. Penso che fin qui non sia stato un bel segnale da parte del Governo per i tempi della ricostruzione del ponte. A 60 giorni dal crollo del ponte non aver ancora nominato il Commissario. Abbiamo più volte detto che secondo noi le due figure più rappresentative e adeguate a ricoprire questo incarico erano il Presidente della Regione Giovanni Toti e il Sindaco di Genova Marco Bucci e quindi è una buona notizia che finalmente si sia proceduto alla nomina del Commissario ed è la buona notizia che si sia scelta una persona che può sicuramente fare la differenza in positivo.